Mi chiamo Tribuna Armando, classe 1924, sono nato il 6 giugno, nome di battaglia da partigiano Nando. Mi ha detto ragazzi qui dovete avere tutti un nome di battaglia, il vostro nome scordatevelo per sempre finché siamo nei partigiani. Chi era? Era lì Bogliolo, Lomavri, c'era questo maresciallo della marina, ci ha detto il vostro nome è quel nome lì di battaglia, mi ha chiamato Nando, loro. Del 44, cioè del 43 ero in marina Pola, sono scappato a piedi, ho fatto Pola, Cengio a piedi 30 giorni. Arrivato a casa avevo sempre sia i tedeschi, i carabinieri e i signori del fascismo sempre sotto casa. Allora ho deciso, sono scappato con altri compagni, siamo andati a Casotto, Val Casotto in Piemonte. Eravamo una diecina di ragazzi. A marzo eravamo andati a Casotto col maggior Mauri. A marzo abbiamo avuto il primo attacco avuto dai tedeschi e repubblicani. L'aiutante di battaglia Bogliolo, cioè eravamo ne appresi di nuovo noi dieci, ci ha inviati a Viola, a Viola vicino al paese di Ceva. E lì abbiamo sostenuto il primo combattimento. Abbiamo combattuto un paio di ore finché abbiamo avuto munizioni e al momento ci hanno attaccati con delle autoblinda e abbiamo dovuto scappare, mollare tutto. E ci siamo rifugiati sui monti di Garessio, al Mindino. E di lì è venuto lo sbandamento che ci siamo poi diretti di nuovo lì sulle Langhe. Sulle Langhe ci siamo riuniti, abbiamo riunito altri ragazzi e abbiamo costituito altre squadre, sempre col maggior Mauri. A metà 44 siamo stati sorpresi dai tedeschi e ci hanno presi e inviati a Cuneo. A Cuneo, dopo qualche giorno, nella confusione di tutto questo rabbello che c'era, siamo riusciti a scappare e siamo ritornati sulle montagne delle Langhe. E lì abbiamo continuato il nostro lavoro da partigiani e dove il nostro lavoro era quello di scendere nei paesi giù verso Priero, magari Ceva, andare a Montezemolo, venire dalla parte di Cengio, oppure Monesiglio, Camerana e attaccare quei piccoli gruppi di nazi fascisti che si inoltravano nelle valli qui nostre. Dopo un periodo di tempo dal maggior Mauri sono stato invitato, diciamo mi ha chiamato, di andare come squadra di supporto agli inglesi, dove questi inglesi erano addetti ai lanci, facevamo i lanci di munizioni, viveri, vestiario, un po' di tutto queste cose per vivere noi, che non avevamo abbastanza per poter vivere. Nonostante l'aiuto dei contadini, che purtroppo anche loro erano in posizioni molto, molto, diciamo, terribili, perché se venivano sospettati dai fascisti, i tedeschi venivano presi, anche fucilati, bruciati le case. Forza di girare un po' da una parte, un po' da un'altra, siamo andati un po' giù in Valle Tanaro, dove in Valle Tanaro eravamo alla dipendenza lì di un maresciallo della marina, eravamo una ventina di partigiani, dove si operava a contatto con il comandante Mario dello Sbaranzo, che era un comandante di una squadra di partigiani lì lungo il Tanaro. Intanto che abbiamo fatto diversi attacchi anche lì, mi ricordo bene, dove abbiamo assaltato una colonna di fascisti in bicicletta. Loro sulla strada pianeggiante, noi dalla parte dei Ghiani e loro dalla parte di Caru, abbiamo attaccato questa colonna in bicicletta. Non so, lì non abbiamo più saputo niente quanti erano stati poi i morti o i feriti, perché l'avevamo attaccata con delle mitragliatrici. Quelle famose mitragliatrici americane. Insomma, che siamo arrivati, forza di fare attacchi un po' da una parte e dall'altra, siamo arrivati a novembre. A novembre dove abbiamo fatto con gli inglesi, grazie a loro, abbiamo fatto un lancio sulle langhe di 200 paracadute. i tedeschi, i partigiani dalla piana che vedevano tutte queste cose, hanno pensato bene di attaccarci, perché loro pensavano che noi ci rinforzavamo. Loro buttavano, hanno anche buttato delle armi abbastanza, diciamo, non proprio pesanti, ma, insomma, a fine, a fine lì, dopo novembre, siamo stati attaccati dai tedeschi. Siamo stati attaccati di notte alla sera, dove hanno cercato di attraversare il Tanaro, passando su un ponte di legno, e lì è dove i nostri compagni hanno fatto saltare un carro armato, un camion pieno di tedeschi. Visto queste cose che non potevano più passare, hanno oltrepassato, diciamo, il fiume Tanaro a piedi. E nella notte lì abbiamo sostenuto un combattimento, diciamo, fino di notte all'indomani. Poi loro sono venuti su con forze veramente sovverchianti, carro armati, che noi non potevamo difenderci da queste armi, da queste unità. E abbiamo avuto il famoso sbandamento del fine 1944. Passato l'inverno, un po' da una parte, un po' dall'altra, sempre in questi casolari, un po' siamo venuti a casa, dove non potevamo rimanere a casa, perché eravamo sempre costretti a scappare, per questi fascisti e tedeschi che venivano a cercarci. Abbiamo formato un'altra squadra di questi tutti sbandati e siamo andati dalle parti di Monesilio. Lì io, con i miei compagni, ho di nuovo ritrovati quegli inglesi che facevamo i lanci. Avevamo una mitragliatrice 14 americana, Brovince, d'accordo eravamo una 27-28 partigiani. Il comandante nostro ha saputo che doveva venire da San Giuseppe verso Ceva, il treno blindato. Avevamo avuto l'ordine di piazzarsi sopra le Arture, lì di San Liceto, alla stazione, e di attaccare questo treno. Questo treno poi in seguito non è venuto. E noi, girando un po' di qua, un po' di là, mi ricordo che pioveva proprio di rotto, eravamo venuti qua verso Cengio e da Cengio abbiamo visto sulla statale che da Cengio va a San Liceto il passaggio di una ventina di autobotti. che andavano a girare, si vede che avevano sbagliato strada, andavano a girare verso Sal Liceto per ritornare allo stabilimento che volevano caricare tutte queste autobotti di benzolo. Al mattino, sempre da informazioni, ci siamo portati qui vicino allo stabilimento e abbiamo, in un piazzale che si vedeva molto bene, diciamo, verso il paese di Brignoletta e Pia Rocchetta, si vedevano bene tutte queste autobotti. Le abbiamo attaccate e, ha sentito dai testimoni, abbiamo distrutto tutte le botti, le abbiamo bucate tutte e non hanno più potuto fare il carico di benzolo. Però, all'indomani, avevamo tutti i paesi qui nell'intorno pieno di tedeschi, fascisti, tutta questa gente che ci cercavano. Aspetta un momento.